Sono Massimo Carlotto e consiglio caldamente la lettura di una brutta storia per Giorgio Pulixi, edizioni E.U. Collana Sabotage, un romanzo assolutamente straordinario ambientato nel mondo della corruzione delle forze dell'Odi, in particolare la polizia. Due bande che si confrontano in una città del nord, ma una di queste bande che assomiglia proprio a un clan porta alla divisa. Una storia straordinaria per parlare dell'Italia di oggi. Massimo Carlotto per Club Dante